Buonasera e benvenuti. Lo spazio di questa sera, il Fatto, questo speciale, intende essere proprio uno spazio importante dedicato all'amministrazione comunale di Montesilvano che intende far conoscere ai cittadini di Montesilvano, ai residenti, ma non solo, anche ai turisti di un giorno o a quelli che rimangono per intere settimane sul territorio di Montesilvano tutti gli eventi, le manifestazioni sportive e non che caratterizzeranno questa estate 2022 proprio a Montesilvano. Ad illustrare il tutto in studio ci sono tre ospiti, vi presento subito il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, buonasera e benvenuto sindaco. Buonasera Paolo, a te e a tutti i telespettatori. Insieme a lui ci sono due assessori di giunta, Deborah Comardi che tra le varie deleghe, buonasera assessore, a quella del turismo e anche alle manifestazioni e agli eventi e poi l'altro assessore in studio presente è Alessandro Pompei, assessore allo sport, agli eventi sportivi e anche alle politiche giovanili. Buonasera a tutti, buonasera Paolo. Allora, una squadra giovane intanto, sindaco. Eh sì, assolutamente sì, diciamo che l'intera giunta è giovane e sia l'assessore Comardi che l'assessore Pompei rappresentano forse i due componenti di giunta più giovani a testimonianza del fatto che dall'inizio abbiamo cercato di dare una freschezza e questa età in qualche modo la rappresenta in pieno. Prima di continuare con i nostri ospiti un saluto preventivo in regia ad Andrea Di Fabio mentre in studio dietro le telecamere c'è Roberto Cherchi che ringrazio naturalmente tutti e due. Sindaco, parto di nuovo da lei, naturalmente voi avete già presentato nei giorni scorsi ma anche qualche settimana fa il ricco, ricchissimo cartellone degli eventi. Un cartellone che si può dire un po' per tutti i gusti. Sì, come del resto negli anni abbiamo voluto regalare alla città, ai cittadini, ai tanti turisti che sceglieranno Montesilvano quale sieda le loro vacanze, un cartellone appunto variegato per accontentare tutti i gusti e soprattutto per accontentare tutte le fasce di età. È una stagione la prossima per la quale c'è grande attesa, c'è grande attesa e anche grande soddisfazione perché dopo due stagioni durissime legate all'emergenza Covid, questa è la prima stagione fuori appunto da questo tunnel che per troppo tempo ci ha in qualche modo segnato la vita. Siete anche un po' emozionati, lo possiamo dire. Assolutamente sì, siamo emozionati ma al tempo stesso siamo pronti ad accogliere appunto un'estate importante al meglio, al meglio con un cartellone insomma importante, con un cartellone che riprende un percorso che avevamo iniziato, che era culminato poi nel concerto di giovanotti del 2019 che abbiamo dovuto purtroppo interrompere appunto a causa del Covid. In questi due anni abbiamo comunque adottato un sistema per il quale abbiamo preservato, insomma siamo stati attenti a tutto quello che richiedeva l'emergenza ma al tempo stesso abbiamo comunque regalato delle stagioni importanti. Che cosa avete organizzato soprattutto credo l'anno scorso? Sì. Non tanto nel 2020 perché lì c'era proprio la pandemia dura. Eravamo proprio in difficoltà nell'organizzazione di eventi. Lo scorso anno abbiamo adottato appunto un sistema diverso per il quale abbiamo previsto dei palchi diffusi su tutto il territorio, soprattutto sulle aree più turistiche sui quali si sono esibiti duo o trio al massimo. E' proprio per non concentrare senza sedute, quindi per aglietare comunque i passanti e i turisti residenti, ma al tempo stesso per evitare quegli assembramenti che sembravano essere insomma un veicolo per la trasmissione del Covid. Quest'anno ripartiamo invece sicuramente con eventi diffusi su tutto il territorio ma anche su eventi importanti con artisti di caratura nazionale, con eventi dove ci saranno delle sedute, delle presenze importanti anche in termini numerici di pubblico. Grazie per il momento al sindaco di Montesilvano. Allora, prima di entrare proprio nel dettaglio di questi eventi con l'assessore Comardi, le faccio questa domanda, visto anche la sua delega al turismo. Avete un po' sicuramente il polso delle situazioni quest'anno, no? Gli albergatori sono soddisfatti? Che clima si respira a Montesilvano? Allora, il clima è assolutamente positivo perché i feedback che noi abbiamo sono feedback di alberghi con prenotazioni al completo. Già, quindi davvero siamo fiduciosi, siamo convinti che sarà un'estate bella, un'estate ricca, un'estate piena, viva, anche proprio sotto il profilo del turismo. Noi, nonostante il Covid, non ci siamo mai fermati, nel senso che, come diceva il sindaco precedentemente, abbiamo continuato a organizzare eventi, anche se con questa formula diffusa, proprio per cercare di non spegnere quello che è lo spirito turistico di Montesilvano e quello che è anche lo spirito estivo. Montesilvano è caratterizzata dalla presenza di eventi tutte le sere, quindi noi abbiamo mantenuto questa formula. Quest'anno, proprio in previsione di un'estate dedita alla ripartenza, anche una ripartenza proprio forte, abbiamo deciso di mantenere questa formula di eventi diffusi, ma integrandola con degli eventi più importanti, con dei nomi di caratura nazionale. Ecco, vogliamo fare qualche nome, visto che abbiamo parlato di un cartellone ricco e variegato. Allora, abbiamo cercato di accontentare tutti i gusti come tutti gli anni, perché riteniamo che poi fare delle scelte variegate sia una formula vincente che possa piacere. Qualche nome, iniziamo subito il 15 di luglio con Nada e la Maurizio di Fulvio Band, quindi un nome importante davvero a livello nazionale, seguita poi il 22 di luglio da Ron con l'orchestra. Un nome importante, ha fatto la storia della musica, non ha bisogno di presentazioni assolutamente. La particolarità è che non verrà da solo, ma ci sarà proprio la sua orchestra ad accompagnarlo. Ecco, una cosa che leggo, Assessore, ingresso gratuito, sono tutti gratuiti questi spettacoli. È una cosa importante da comunicare ai tre spettatori. È una cosa importante perché noi abbiamo deciso di puntare, proprio in previsione della ripartenza, alla gratuità degli eventi. Tutti gli eventi di Montesilvano sono assolutamente gratuiti, tranne piccoli eventi oppure tranne la formula del sunset, che prevede comunque un ingresso gratuito in lista, magari ne parleremo poi approfonditamente. Però abbiamo deciso davvero di puntare all'apertura totale, quindi regalare ai cittadini e ai turisti dei momenti senza pagare il biglietto. Continuando a leggere i grandi concerti di questa estate a Montesilvano, estate 2022, dopo Ron, Nada Ron, Gemelli Diversi. Abbiamo i Gemelli Diversi, un altro grande nome che siamo riusciti ad intercettare. I Gemelli Diversi, a differenza di tutti gli eventi che si terranno al Teatro del Mare, si esibiranno all'interno del Sunset Experience. Il Sunset Experience è un format che abbiamo riproposto adesso per il terzo anno consecutivo, che prevede un picnic sulla spiaggia, prevede un accompagnamento appunto al tramonto. Stiamo vedendo proprio alcune immagini. Esatto, vediamo proprio le immagini, è veramente suggestivo. Quest'anno una formula diversa, nel senso che si potrà ovviamente prenotare il picnic, oppure ci sarà un ingresso libero, però sempre con prenotazione in lista, con un contributo minimo di pulizia della spiaggia di 2 euro, quindi un contributo simbolico, però anche il Sunset si apre totalmente alla cittadinanza. E i Gemelli Diversi si esibiranno proprio qui sulla spiaggia del tratto Jova Beach, quindi è un concerto sulla spiaggia. Gli altri appuntamenti li diciamo, poi magari scenderemo più nel dettaglio. Dopo i Gemelli Diversi abbiamo? Allora, dopo i Gemelli Diversi dovremmo avere il 6 di agosto Shade, e ne parlerà Alessandro Pompei, perché è un evento proprio tipico per i giovani, che Alessandro ha voluto fortemente. Parliamo del Sound of Sea Festival, giusto? Poi Alessandro ne parliamo. Dopo i che il Ferragosto con Teo Teocoli e il 19 di agosto Arisa e anche lei non hanno bisogno di presentazioni. Il cartellone è davvero molto interessante, soprattutto come abbiamo ripetuto variegato. Grazie anche a lei Assessore per il momento, Alessandro Pompei, sport, eventi sportivi, politiche giovanili. Intanto, prima di proiettarci su quello che vedremo sul territorio di Montesilvano in questi ambiti, quello che è stato già fatto e che vi ha dato dei riscontri? Sì, allora nell'ottica, come anticipava anche giustamente il Sindaco prima, di una destagionalizzazione della nostra offerta turistica, abbiamo inteso di cercare di allungare il più possibile le date interessate dagli eventi. Con gli eventi sportivi abbiamo iniziato già dalla prima settimana di aprile, ospitando dei campionati italiani di rotellistica e continueremo fino anche ad ottobre inoltrato. Gli eventi sportivi sono veramente numerosi. Voi li avete denominati sport and fun, quindi sport e intrattenimento. Assolutamente, perché dentro il cartellone degli eventi sportivi abbiamo inserito anche alcuni eventi significativi e di rilevanza, quanto meno nazionale, di ambito fieristico, quindi che interesseranno il Paladin Martin. La locandina sport and fun è anche perché ci piace immaginare che ovviamente laddove ci sia sport, ci sia anche colore, musica, come diceva l'assessore Comar, di vitalità e divertimento. Questi sono gli appuntamenti di aprile? Sono gli appuntamenti che abbiamo già realizzato. Il trofeo dell'Adriatico, abbiamo avuto la rievocazione del circuito della Coppa Cerbo, che è interessato anche i comuni di Pescara e Spoltore, un campionato italiano di scacchi. A seguire già dal weekend del primo maggio c'è stato un evento molto importante, che è lo Sterrarium Manotrophy, ovvero un raduno di moto enduro che ha girato come finalità di valorizzazione turistica non solo il comune di Montesilvano, la base era a Montesilvano, ma ha girato tutto l'Abruzzo, rendendo visibili le bellezze del nostro territorio. C'è stato poi ovviamente il Giro d'Italia che ha avuto la partenza a Pescara e è passato completamente all'interno del comune di Montesilvano ed è stato il 17 di maggio. Abbiamo ospitato le finali nazionali giovanili di handball di pallamano nel weekend del ponte del 2 giugno. Quello stesso ponte, in quegli stessi giorni c'è stata la concomitanza anche di un altro evento molto molto grande di caratura internazionale che è stato il Free Chapter, ovvero un raduno di Harley Davidson che ha portato sul territorio comunale di Montesilvano circa 800 moto provenienti da tutta Europa. 800 per 2 possiamo dire. In linea di massima sì, ma infatti trovare una stanza negli alberghi già da quei giorni era pressoché impossibile. La settimana seguente c'è stato un altro evento molto importante, ovvero forse il più importante all'interno del cartellone degli eventi della Federazione Italiana Triathlon che sono stati i campionati italiani giovanili di triathlon che abbiamo confermato sul territorio di Montesilvano per il secondo anno di fila. Tanti altri fino ad ottobre, poi magari scenderemo più nel dettaglio, ma abbiamo anche competizioni europee di pugilato, di pallavolo, di futsal, campionato italiano di beach volley, campionato italiano di street basket. Ho visto che c'è anche il pugilato, calcio a 5, insomma. Il concetto alla base degli eventi sportivi è il medesimo che allarga... Impossibile non divertirsi e non rimanere coinvolto. Variegato così come per gli eventi di intrattenimento musicale, abbiamo cercato di accontentare tutti. Io prima ho sentito anche una parola, il pattinaggio, ma è vero che state puntando alla costruzione di un pattinodromo? Assolutamente sì, questo è uno dei punti che era nel programma del sindaco Ottavio De Martinis e che vogliamo assolutamente portare a compimento. Abbiamo già partecipato e stiamo partecipando a... La nostra volontà, il nostro desiderio è quello di riuscire a realizzarlo entro la fine del nostro mandato. Quindi il 2024 e con il sindaco stiamo lavorando proprio in quest'ottima. Sì, perché ci si riuscirà? Ma io penso di... sì, nel senso che voglio sbilanciarmi per due motivi. Intanto perché ci è stato in qualche modo manifestata, come nel resto in questi tre anni, una vicinanza costruttiva da parte della regione che ci ha assicurato dei fondi importanti per quello che riguarda lo sport, proprio perché Montesilvano si è connotata come sede ideale per manifestazioni nazionali e internazionali e quindi investire sul territorio di Montesilvano in termini sportivi significa un investimento per tutta la regione. Perché l'Abruzzo, lo ricordiamo, ha una tradizione validissima in questo campo specifico. Assolutamente, sì. E anche per una questione di riuscita relativamente all'ottenimento di fondi attraverso partecipazione a bandi nazionali, noi pensiamo che avendo partecipato di recente a un bando che prevedeva proprio dei fondi per la realizzazione di strutture sportive e avendo presentato un bel progetto che prevede proprio la realizzazione di un pattinotopo, se tanto mi dà tanto e se abbiamo fatto i calcoli giusti potremmo avere presto un milione e mezzo che potrebbe consentirci di realizzare il pattinotopo in tempi veramente ristretti. Maggio è passato, però se sono rose fioriranno. Assolutamente sì. Ecco, volevo fare un'altra domanda, Sindaco. Naturalmente la maggior parte degli eventi si fanno all'aperto, no? Perché poi Montesilvano si presta molto, non soltanto credo in spiaggia, ma anche Montesilvano Colle coinvolgerete sicuramente. Però poi avete un'importante struttura, il Paladin Martin, dove verrà utilizzata questa struttura, no? Mi fa piacere questa domanda perché mi dà la possibilità di sottolineare quanto il sottoscritto abbia da oramai anni puntato al Paladin Martin e soprattutto lo abbia difeso dall'idea di esternalizzazione. Io in modo particolare ho voluto che il Paladin Martin restasse in capo all'amministrazione comunale e questa scelta è stata azzeccatissima perché negli anni ci ha dato la possibilità, al di là, durante il periodo del Covid, di ospitare, ecco, di diventare centro vaccinale tanto altro che diversamente non sarebbe stato possibile. Darci la sede anche per le scuole perché c'era richiesta di aule in questo periodo e il Paladin Martin ha funto anche da questo, ma soprattutto ci ha dato tante soddisfazioni perché è diventato anche questa struttura una sede importante che è vista a livello nazionale da chi, organizzatore di eventi sportivi e non solo, sceglie Montesilvano e il Paladin Martin come appunto sede di questi eventi. Quindi mi fa molto piacere che si rimarchi l'importanza di questa struttura, che voglio ricordarla, e il Palacongressi d'Abruzzo e anche a livello regionale non ci sono strutture importanti come questa. Noi ci abbiamo puntato, vogliamo continuarci a puntare, abbiamo un finanziamento già ottenuto per migliorarlo in tanti aspetti e quindi ritengo che non soltanto per quest'estate ma anche per il futuro il Paladin Martin sia una struttura davvero importante, strategica che ha ospitato già in questi due mesi precedenti all'estate eventi come quello di cui parlava l'assessore Pompei, l'evento internazionale, il raduno di moto Harley Davidson che peraltro l'assessore Pompei limitava a un territorio europeo ma sono stati anche brasiliani, canadesi e non ricordo abitanti di quali altri continenti e quindi a dimostrazione insomma che il turismo sportivo per la nostra città e per la nostra regione può diventare qualcosa di davvero importante. Grazie ancora. Il sindaco lo sa bene perché ha fatto anche un giro in moto con l'Harley. È andato bene? Sì sì è tutto bene. Ma lei ha la moto? In realtà un amico, io avevo una moto, negli anni ero motociclista ma ho venduto tempo fa la mia moto però nell'occasione non ho potuto fare a meno di chiedere in prestito un Harley e anche io ho voluto insieme al Free Chapter che ringrazio per la scelta della nostra Montesilvano fare un bel giro in moto fino a cambio imparato. Naturalmente voi potete interagire tra di voi se sentite parlare l'uno con l'altro. Sì sì, poi ti integrerò allora con alcuni eventi del Paladin Martin visto che... Mi sciolga un piccolo dubbio, assessore o assessora? Indifferente. Indifferente, indifferente. Allora proprio perché stiamo toccando la tematica del Paladin Martin, quest'anno al piazzale esterno ci saranno veramente tante attività e tanti festival, è importante sottolinearlo avremo il festival irlandese, festival siciliano, festival dei motori, festival internazionale e lo street food, quindi sono veramente tanti gli appuntamenti, abbiamo deciso proprio di rendere ricca quella zona. Ma per esempio il festival irlandese mi immagino fiumi di birra? Ci sarà anche ovviamente la tipica birra irlandese. Come prodotti siciliani, cannoli, eccetera. Esattamente, tutti prodotti che sono distintivi. Avremo una mostra d'arte a partire dal 23 luglio di Marco D'Agostino, Cari Cartoons, quindi ci sarà spazio, ci saranno anche tanti altri appuntamenti che riguardano l'arte poi sulla riviera e al Colle, però Paladin Martin poi si concluderà, anzi ci saranno tanti appuntamenti ulteriori anche all'interno, uno che mi preme sottolineare ci sarà il 10 settembre del Pescara Comics, perché è davvero un evento molto molto bello. Sicuramente, ci sono dei nomi importanti anche a questo Pescara Comics, ci saranno? Ci saranno, però è in fase di allestimento, quindi l'appuntamento a tutti gli appassionati di fumetti, che non sono solo piccini, anzi sono soprattutto gli adulti grandi. Assolutamente, perché ci saranno anche davvero delle figure rappresentative anche di quello che è il mondo degli anni 90 e degli anni 80, quindi davvero un momento da non perdere. Oh, e andiamo di nuovo all'assessore Pompei, perché insomma i giovani attendono i vari appuntamenti che magari sono stati già proposti l'anno scorso e verranno riproposti, quelli di maggior successo evidentemente anche quest'anno. Qualche esempio, Assessore? Sì, innanzitutto voglio ringraziare pubblicamente il Sindaco, perché da quando abbiamo iniziato questo mandato ha avuto la sensibilità di voler dedicare ogni estate degli spazi specifici, degli spazi, dei momenti di intrattenimento anche per i più giovani. Questa è una cosa che è molto importante per una città come Montesilvano ed è stata molto apprezzata fortunatamente dai ragazzi. Abbiamo avuto purtroppo quei due anni di stop dovuti dal Covid, ma quest'anno riprendiamo, già l'anno scorso un po' avevamo ripreso, ma quest'anno riprendiamo in maniera più decisa. Per i più giovani avremo il 6 di agosto il concerto gratuito di Shade al Teatro del Mare, avremo... Ecco, questo nell'ambito di quale manifestazione? ...del Sound of Sea Festival. L'anno scorso? Due anni fa, pre-Covid, avevamo la fortuna di avere Vegas Jones. Vegas Jones. Sì, due anni fa ospitammo anche Luque, ospitammo anche Massimo Pericolo, ospitammo a Mambolosco, che sono dei nomi che magari, ecco, a mia mamma potrebbero non dire nulla, però ai miei nipoti, ma anche a me invece dicono tanto. Vediamo da queste immagini il grande entusiasmo tra i ragazzi, tra i giovani sicuramente, no? Esattamente, sono state tutte date molto partecipate. Avremo poi il 12, 13 e 14 di agosto la seconda edizione del Diorama Festival, che è un evento che si propone, oltre che di essere un momento di intrattenimento musicale per i giovani, anche artistico, perché riempie il borgo di Montesilvano Colle, ecco, è quello che stiamo vedendo che si svolge sul borgo di Montesilvano Colle, anche con delle installazioni artistiche, con dello street food. È un momento bello perché intreccia la valorizzazione del borgo, che solitamente ha delle dinamiche storiche un po' più lente, ha delle possibilità, ecco, di musicale e di intrattenimento più giovani e fresche. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di questa proposta è che ha portato al borgo tantissimi ragazzi, in buona parte di questi hanno scoperto quindi la bellezza del borgo, perché davvero, credetemi, vi invito a venirci, perché soprattutto negli orari serali, l'ora del tramonto, è meraviglioso vedere il sole che, insomma, si va a spegnere dietro la bella addormentata, si vede il nostro bellissimo lungomare, il borgo è bellissimo, quindi è veramente, veramente un bel evento. E si ripeterà anche quest'anno. E si ripeterà anche quest'anno. Poi ci sono tutti gli eventi sportivi che comunque interesseranno anche i ragazzi, c'è il Sunset Experience, che come diceva l'assessore Comardi, è un momento, anche questo, molto fresco, perché al di là della possibilità molto romantica di fare un picnic sulla spiaggia al tramonto, con il cestino, è tutto molto ben organizzato, ci sarà anche l'opportunità di avere accanto delle proposte musicali non indifferenti, citavamo prima i gemelli diversi per fare un nome, ma avremo anche un DJ che i più giovani conoscono sicuramente, che è Leon. Tanta carne al fuoco, per fortuna. Assessore, prima ho sentito due paroline, paroletore di carne al fuoco, Andrea Di Fabio, bisogna vedere gli arrosticini. Questo è Vegas Jones, sì. Vegas Jones che li mostra come un trofeo, come un trofeo a chi già, peraltro, li conosce benissimo. È il pubblico in delirio. Lui li ha conosciuti soltanto due anni fa, no? Street food, però voi avete anche tanti artisti che hanno già dipinto. Street art, esattamente. Street artist. Esattamente, questo è un altro grande merito che va riconosciuto a questa amministrazione, la sensibilità del sindaco, perché ha saputo cogliere questa opportunità che, secondo me, è molto significativa, perché da un lato ci aiuta a riqualificare, diciamo, magari delle aree urbane che possono essere o più o meno in situazioni di degrado, ma sicuramente ci aiuta a colorare le aree grigie della nostra città. Dopo tanti interventi diffusi sul territorio, l'anno scorso abbiamo messo la ciliegina sulla torta con il Pulpa Festival, che è quello che vediamo adesso nelle immagini. Praticamente, forse un evento unico nel suo genere, con presunzione, ti dico, anche in Europa, perché per trovare 350 metri di muro lineare, riempito e colorato da opere di street art e di artisti internazionali, probabilmente dobbiamo arrivare a Berlino. Quindi questo ci fa molto onore, è un evento che è piaciuto tantissimo. Ecco, Sessore, lei parla di artisti internazionali, ma come vengono contattati, nel senso, come sanno di questa possibilità che si trova a Montesilvano? È chiaro che, come spesso accade in tanti altri ambiti, bisogna iniziare ad accreditarsi. All'inizio, proprio il primissimo intervento che abbiamo fatto, abbiamo avuto un po' di difficoltà, perché eravamo un territorio vergine da questo punto di vista. E invece poi, da cosa nasce cosa? Inizia un primo street artist, il primo intervento che abbiamo fatto con Pixel Pancho, che è un artista di fama internazionale, abbiamo riqualificato due pareti nelle case popolari di Via Rimini. Di lì è stato tutto un percorso in discesa, perché c'è il passaparola, gli artisti iniziano a vedere la città come appetibile per poter apporre la propria firma con la realizzazione di un intervento e il Pulpa Festival, nello specifico siamo stati però noi ad individuare, insieme all'associazione Spazio 010 e ovviamente all'amministrazione comunale, gli artisti che avremmo voluto portare sul territorio. Quest'anno riproporremo la seconda edizione del Pulpa Festival, il fine settimana del 17 e 18 di settembre. Sindaco, insomma ricco, variegato, ma anche colorato, abbiamo visto queste belle immagini dei murales a Montesilvano. Se lei dovesse trovare un filo conduttore a tutta questa bella diversità? Un filo conduttore è l'idea che ci siamo fatti della nostra città nel futuro. Quando sindaco, appena diventato sindaco, insieme all'intera amministrazione abbiamo proprio iniziato un percorso con un'idea ben definita. L'idea era centrata sul settore turismo che è il traino ovviamente della nostra città e della nostra regione e di conseguenza abbiamo pensato cosa possiamo fare per rendere attrattiva la città il più possibile e abbiamo lavorato a tutta una serie di iniziative e questi eventi e tutte queste situazioni di cui si è parlato rappresentano un unico filo che vuole rendere Montesilvano non soltanto la terza città d'Abruzzo ma una città a livello nazionale, perché no anche internazionale, importante da un punto di vista turistico. Abbiamo gli alberghi, ovviamente il polo alberghiero più importante della regione che aiuta sicuramente in questo, ma non basta poi attrarre turisti ma è importante anche regalare al turista quello insomma che richiede. Quindi vivibilità, quindi svago, colore, anche perché no, è tutto quello che in qualche modo noi stiamo portando avanti in questi anni e intendiamo continuare a portare avanti. Ecco Sindaco, tra l'altro lei ha anche alcune deleghe importanti tra le sue mani. Io mi volevo soffermare su una in particolare, quella delle politiche alla disabilità, perché Montesilvano, grande spiaggia, spiaggia importante, ma avete una spiaggia accessibile a tutti. Noi ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, ne hanno parlato un po' tutti, no? Mi fa piacere anche in questo caso che si parli di questa spiaggia e di questa delega che ho voluto tenere per me e per la quale però ho affidato una delega al consigliere Giuseppe Manganiello che unitamente a Credo Ferrante, che è il responsabile del figlio di Sabili e i suoi collaboratori, sta portando avanti un lavoro proficuo quotidiano, un lavoro che vuole rendere la nostra città sempre più accessibile, una città senza badiere non soltanto architettoniche ma anche culturali. Stiamo lavorando a questo d'insieme, abbiamo fatto già tanto diventando insomma una città all'avanguardia dal punto di vista dell'accessibilità e questa spiaggia accessibile in realtà sono due, sono il fiore all'occhiello. Dove si trovano queste spiagge? Allora, una in corrispondenza di via Petrarca e l'altra si trova al ridosso del mercatino ittico. Entrambe hanno delle peculiarità tali da rendere il soggiorno di chi ha una disabilità il più sereno e il più comodo possibile. La differenza è che quello che si trova al ridosso del mercatino ittico ha delle peculiarità e ha una connotazione tale che è più preferibile per chi ha delle disabilità non tanto fisiche ma psichiche che necessitano soprattutto di calma e di spazi un po' più tranquilli. Sindaco, queste sono spiagge libere quindi accessibili, però voi avete stretto un importante patto anche con i balneatori. Sì, con i balneatori, al di là di queste due spiagge mi piace sottolineare che dallo scorso anno è partito un progetto che si chiama Mare senza barriere per il quale alcuni stabilimenti, diversi stabilimenti hanno messo a disposizione all'interno della propria concessione uno o due ombrelloni a disposizione gratuita di chi ha una disabilità. Questo mi sembra un qualcosa di davvero importante perché non soltanto l'amministrazione ma anche il tessuto turistico ha capito l'importanza di quello che si sta portando avanti e diciamo che comunque anche questa accessibilità è un importante elemento anche da un punto di vista turistico perché sono tante le famiglie che scelgono Montesilvano anche solo per questo e sono tanti addirittura i cittadini che incontro ogni estate che si trasferiscono a Montesilvano solo perché dalle loro città di provenienza proprio perché c'è questo stato di cose che rende la loro vita sicuramente più bella. Speriamo davvero di poter abbattere altre barriere mentali che noi abbiamo comunque tutto sommato ancora dentro di noi. Lo stiamo facendo ringrazio Claudio Ferrandi pubblicamente l'ufficio anche per progetti che si stanno portando all'interno delle scuole. Sono le future generazioni che possono regalare a tutti noi un mondo migliore e proprio nelle scuole si sta portando avanti proprio un progetto che vuole nei ragazzi inculcare quanto la diversità sia in realtà un qualcosa di importante e quanto l'inclusione sia e alcuni comportamenti siano altrettanto importanti per la nostra vita. Grazie ancora Sindaco. Torno da Deborah Comardi, assessora al turismo, manifestazione ed eventi. Se lei dovesse consigliare, indicare uno, due, anche tre manifestazioni, quale puntare? Vabbè, noi abbiamo fatto proprio... Senza far torto a nessuno. No, no, vabbè, noi abbiamo proprio fatto il manifesto che è stato proiettato prima con i nomi di maggior spicco, quindi che sono i nomi nazionali, gli appuntamenti imperdibili che noi assolutamente consigliamo. È ovvio che questa è l'estrapolazione di un calendario estremamente ricco, nel senso noi abbiamo più eventi tutte le sere, quindi saranno veramente tantissimi gli appuntamenti. Questi sono gli appuntamenti di punta, però noi avremo lunedì, martedì e mercoledì serate dedicate al ballo, avremo il weekend serate dedicate alla musica. I punti sono dislocati poi non solo sulla riviera, ma anche al colle. Ricordo che avremo anche punti, per esempio, all'interno della festa della Madonna del Carmelo, la festa di Via Sele, quindi gli eventi saranno veramente dislocati all'interno del territorio cittadino. Sulla riviera i punti che abbiamo deciso di mantenere sono Largo Venezuela, il pontile di Via L'Europa, per gli eventi di accompagnamento un po' più piccoli. Riapriremo il Teatro del Mare, quest'anno che abbiamo dovuto tenere chiuso, per ovvi motivi che abbiamo precedentemente ricordato, quindi riapriremo appunto il Teatro del Mare per gli eventi più importanti e più grandi e avremo degli eventi importanti anche al Borgo e Montesilvano Colle. Alessandro prima ha ricordato il Diorama, ma non solo, ci sarà Borgo a Solotto l'Ottolotto il 9 di luglio, che sarà un evento anche ricco culturalmente. Avremo lo Stardust il 10 di agosto, che è una rappresentazione del sistema solare, una riproduzione del sistema solare molto molto carina, molto affascinante, quindi davvero gli eventi sono tanti. Poi consiglio qualche evento, dipende dai gusti singoli, quindi ogni persona potrà scegliere l'evento che più gli piace in base ai propri gusti personali. Faccio anche questa domanda, perché tutta questa serie di eventi, noi ne stiamo parlando, voi ne state parlando per farli conoscere i telespettatori, però poi dal punto di vista organizzativo non è nemmeno tanto facile organizzarli, no? Perché bisogna magari chiudere delle strade, fare altre limitazioni, tra virgolette, almeno per quella serata specifica. Non solo, ma è difficile... Quindi avete per esempio anche l'aiuto sicuramente di volontari, della Polizia Municipale, di tante altre forze che scendono in campo. Abbiamo una squadra veramente splendida, perché costruire un cartellone così ricco è complesso, bisogna incastrare non solo gli eventi fra di loro per evitare sovrapposizioni, evitare anche dal punto di vista logistico problematiche, ma ricordiamo che noi abbiamo l'isola pedonale la sera, quindi... e l'abbiamo tutte le sere, isola pedonale corta fino a Via l'Europa, fino al giovedì, poi da giovedì, verdi, sabato e domenica, fino a mercoledì, perdonami, dal giovedì alla domenica, così siamo più precisi, avremo l'isola pedonale lunga che si estende, dunque proprio fino a Via l'Abruzzo. L'organizzazione è fondamentale, abbiamo veramente una squadra fantastica che ringrazio, che ringraziamo tutti, a partire dalla Polizia Locale, allo staff del Sindaco, al Sindaco stesso che spesso e volentieri ci... Ma lui va in giro la sera, chiaramente, per vedere, per controllare. Dopo cinque anni di assessorata agli eventi, ho acquisito un'esperienza tale da cercare di contribuire quando posso anche... Riesce a trovare anche il miglior punto di osservazione dell'evento. Un punto di vista veramente dato alla saggezza dell'esperienza che sicuramente ci aiuta moltissimo, quindi davvero complicato, sì, ma complica nella sua complicatezza molto affascinante anche da costruire. C'era una canzone dolcemente complicata, si riferiva alle donne però, in questo caso... Sì. Perfetto, grazie, grazie assessore, torno dall'assessore Pompei. Prima si parlava di moto, il rombo delle Harley Davidson, però c'è una bella manifestazione dedicata, credo, ancora in ambito motoristico, mi riferisco a Sterrare e Umano, no? Sì. È una manifestazione che ripeterete anche quest'anno, avete già fatto. Abbiamo già realizzato il weekend del primo di maggio, è bello perché Montesilvano, oltre allo Sterrare e Umano che hai menzionato, il raduno Free Chapter Harley Davidson che abbiamo menzionato poc'anzi, è stato oggetto anche di un raduno di Kawasaki lo scorso fine settimana ed è bello perché, io parlando proprio con gli organizzatori facevo questo ragionamento, loro sono anche molto più fortunati perché hanno l'opportunità di vivere la città di Montesilvano, quindi ecco l'intrattenimento, il mare, la possibilità di una passeggiata e tutto quello che è di bello ha da offrire la nostra città e di cui stiamo discutendo, ma hanno anche l'opportunità di godere delle bellezze di tutta la regione Abruzzo perché giustamente con base a Montesilvano, e questo ci fa onore perché hanno sempre tutti questi eventi... È una manifestazione itinerante questa. Sì, si chiama, poi ho imparato perché ho fatto anche io un po' di scuola in questi mesi, si chiama Circuito a Margherita nel senso che c'è la base centrale che è sempre quella dove si ha la sede di partenza e di rientro che è Montesilvano, è stata Montesilvano, e poi si realizzano dei circuiti appunto come fossero dei petali di una Margherita tornando sempre alla base. Serrare Umano è stato molto bello come evento perché ha visto partecipare centinaia di moto enduro da tutta Italia e la cosa vincente di questa iniziativa è stata che al di là dell'aspetto motociclistico, c'è stato l'aspetto familiare nel senso che sono state studiate anche una serie di attività con delle associazioni specifiche di promozione turistica e territoriale abruzzesi per poter dare l'opportunità anche al figlio, alla moglie, insomma alla famiglia di godere delle bellezze del nostro territorio. Ecco Assessore, faccio a lei anche una domanda che forse un po' esula dall'argomento di questa sera, però lei è anche portatore di un'iniziativa particolare, mi riferisco alle strisce pedonali motivazionali, che ha avuto anche un eco oltre confine, nel senso in tutta Italia se ne è parlato soprattutto sui social. Assolutamente sì. Avete scritto praticamente questa idea di scrivere alcune frasi motivazionali appunto sulle strisce pedonali, però siete stati anche criticati per questo, perché magari qualcuno può pensare che può essere pericoloso fermarsi a leggere, però vediamo che le strisce sono, le scritte sono o sulla prima o sull'ultima. Esattamente, partiamo da un assunto di base che io penso che se nessuno ti critica vuol dire che non stai facendo bene il tuo lavoro. Esatto, sì. Quindi, tante critiche vuol dire che stiamo lavorando bene. Scherzi a parte, questa è una campagna che si chiama Attraversi, che è stata promossa dall'imprenditore montesilvanese Alessio Sarra e che noi abbiamo sposato immediatamente. Come dicevi, giustamente ha previsto la realizzazione su dieci attraversamenti pedonali in città di alcune scritte motivazionali o comunque di massime di canzoni famose o frasi celebri. L'intento era quello di infondere positività, leggerezza e anche di colore, anche se bianco nero in questo caso, in un momento storico che ci rendiamo conto essere abbastanza complicato. Avevamo anche l'ambizione di vedere rimbalzare agli onori della cronaca nazionale questa iniziativa e ci ha fatto piacere perché così è stato. Questa attività ha mosso molti mass media anche di livello nazionale, se ne è parlato, se ne sta parlando, riviste di settore e non solo. Quindi siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto perché poi la cittadinanza ha apprezzato. È una stupidaggine, se permettimi il francesismo, criticare secondo me perché non bisogna criticare sempre. In questo caso si parlava di rischio per il pedone, invece tutt'altro perché come sottolineavi la scritta sul primo attraversamento, quindi anzi io magari mi fermo prima di attraversare per leggere. Per l'atomobilista non c'è alcun genere di pericolo, ma ovviamente ci siamo premurati di richiedere tutti i pareri tecnici del caso. La polizia locale ha dato parere favorevole, per cui mi sembrano polemiche sterili. Sicuramente, sicuramente. Allora abbiamo ancora 7-8 minuti, Sindaco, vogliamo spenderli facendo magari un appello a seguire questa bella estate, già molto calda dal punto di vista meteo, ma sicuramente sarà molto interessante a Montesilvano viverla. L'appello sicuramente è rivolto ai telespettatori, a tutti i telespettatori, soprattutto non tanto ai turisti di fuori regione, ma che da quel che dicono gli operatori turistici arriveranno a flotte sul territorio e quindi noi siamo pronti ad accoglierli. L'appello è, lo rivolgo a chi, a Bruzzese, vorrà trovare qualche serata, insomma, in qualche località dove svagarsi, dove passare un po' di tempo e Montesilvano è pronto ad accogliere anche e soprattutto loro, con le sue bellezze naturali, con il suo territorio e con degli eventi che sono certo piaceranno e soprattutto a chi magari raggiungerà Montesilvano per qualche giorno, quindi non per un solo giorno, potrà trovare diversità tutti i giorni dal punto di vista delle proposte. Io non mi soffermo sui grandi nomi, ma mi piace sottolineare che appunto questa varietà è quanto noi abbiamo pensato veramente a tutti e mi piace sottolineare quanto si sia dato spazio anche all'arte, ci saranno due serate dedicate all'arte, mi piace sottolineare quanto questa estate sarà un'estate durante la quale si proporrà una seconda elezione di un festival letterario e che lo scorso è andato già molto bene e siamo certi anche quest'anno si ripeterà e mi piace anche ricordare quanto spazio abbiamo deciso di dare anche ai giovani con dei format che oramai sono collaudati e in modo particolare quest'anno ci sarà anche spazio per i ragazzi di Dreams che è il talent che il Reteotto ha portato avanti in quest'anno, è avuto un bel successo e sarà per noi molto piacevole portare a dare spazio insomma ecco che Montesilvano diventi un'ulteriore vetrina per questi ragazzi che hanno dimostrato un grande talento e che magari ecco visti da qualche produttore perché no possono intraprendere una carriera importante. Hanno alzato il ditino a tutti e due gli assessori, cosa vogliamo aggiungere? Io volevo dare solo le date appena elencate al Sineco per magari se qualcuno può essere interessato quindi festival letterario 15, 16 e 17 di luglio mentre Dreams ci sarà il 23 di luglio Questo dove? Saranno allora festival letterario Largo Venezuela mentre Dreams al Teatro del Mare Io a margine di quello che diceva giustamente il Sindaco e di tutto quello che ci siamo detti in questa trasmissione, in ambito delle politiche giovanili proprio per aumentare ulteriormente la visibilità del nostro territorio soprattutto attraverso i canali un po' più utilizzati dai giovani quindi social network come Facebook, Instagram, TikTok e via dicendo Per il secondo anno consecutivo abbiamo portato avanti un'attività che è quella di Trip in Montesilvano che ha visto e vedrà protagonisti nella nostra città dei travel blogger, food blogger e anche sport blogger che ospiteremo a Montesilvano, abbiamo già iniziato ad ospitare e che vivranno quindi l'esperienza di una vacanza a Montesilvano con tutti gli appuntamenti che ci siamo detti questa è una cosa che a mio avviso funziona molto perché già lo scorso anno ha raggiunto numericamente delle cifre veramente importanti come coperture e ci fa piacere insomma poter fare affidamento anche su questa modalità di promozione che ovviamente con il consenso del Sindaco insieme all'assessore Comardi abbiamo voluto spingere anche quest'anno Perfetto, grazie anche all'assessore Pompei, un'ultimissima cosa Sindaco noi questa sera abbiamo cercato di dare, di attivare un po' chi ci sta guardando per tutte le varie iniziative, abbiamo dato una panoramica ma per chi volesse conoscere più dettagliatamente il tutto ci sono dei punti informativi a Montesilvano? Sì, abbiamo sicuramente al Paladin Martin il nostro ufficio informazioni turistiche gestito dal CTM Montesilvano, dal Consorzio Turistico Montesilvano che tutti i giorni è aperto ed è pronto a dare informazioni di vario genere e anche a regalare dei pacchetti con visite particolari su tutto il territorio regionale ci saranno molto presto degli opuscoli, dei magazine che verranno distribuiti e comunque sulle pagine social del Comune ci sarà il dettaglio quotidiano ma anche in generale di tutti quelli che saranno gli eventi durante l'estate e per quello che riguarda invece il territorio di Montesilvano mi piace ricordare degli appuntamenti che si terranno in modo particolare a Montesilvano Colle dove c'è stato il primo insediamento umano nella nostra città e grazie a Camillo Chiarieri potrà essere visitato e scoperto anche da chi di Montesilvano perché io devo ammetterlo che benché abbia trascorso la mia vita a Montesilvano da Montesilvano e Sedoc quando ho partecipato a delle passeggiate ho avuto modo di conoscere molto meglio le bellezze ma soprattutto la storia della nostra Montesilvano Grazie, grazie di cuore al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ai due assessori Deborah Comardi e Alessandro Pompei grazie a Roberto Cherchi operatore di studio dietro le telecamere grazie Roberto e grazie ad Andrea Di Fabio che ha curato la regia a risentirci al prossimo appuntamento con questo speciale Il Fatto buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti